Ma non è questo Questo è Mi dispiace T'ha la pinza del culo Anna Giorgia T'ha la pinza del culo T'ha la pinza del culo amica mia Ma che cazzo è Ma che è sta roba Ma C'è una cosa incredibile Vabbè dai risposi Ragazzi saranno 10 per i cazzi loro Non mi vado ad imbucarmi e rompere i coglioni alla gente Lo sapete come sono 50 euro pure a loro L'hanno mai visto un sordo Mamma mia Aspetta Oh regà Tenete I miei earnings di fortnite Vesce campo a voi e le famiglie Che booste Meglio Alla curva Non sbagliamo un drop Da quando è uscito Warzone Ricoccia Ricoccia Aspetta 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 Oddio Oddio Diato dietro pizza attento Fatto Ho preso sta casa Io Oh mio dio Ma qua c'è un ultimo Ma porco 2 Ma che cazzo facevano Non ci credo Regà Non ci credo No fermati Tizio Lo devi vedere dallo streaming E no Qua è da bestemmia ragazzi Io sono morti Io sono morti No no io sono morto Sicuro Non posso venire Oh si stanno faiitando Aspetta Forse sono tutti Fai anteprima arma La vedi solamente di lato E tu tipo Ma io voglio vedere Com'è il mirino Com'è quando la tengo in mano C'è che mi prega Vederla di lato Tanto l'arma la tengo in mano Pagina pass battaglia Tu c'è Un cazzo ragazzi No ma c'è nulla Ma c'è nulla No Ci sono tornei Fino al 20 dicembre Ma che paga No no Secondo me ne fanno di tornei Devono fare il winter royale Lo rifaranno Mi pighe 24 samad Lo sai Oppure che poi mi annoio troppo Se faccio tutto Però io non so dove sei Io non so dove sei Ti giuro su Dio Sei in quel box? Sì Ho appena buildato Ma Ridge sei invisibile Tieni questo Provatelo Non so cosa cazzo sia Hai colpi pure di cieco? Certo certo Ti darei tutto ancora Ma Ok ci tiriamo Sta citando Ridge sei invisibile Ok